Ultimati, bellissimi, come vi avevo detto non li avevo mai visti così voluminosi, devo sistemare la frangia perché mi è cresciuta tantissimo, quindi in settimana la sistemerò, però devo dire che questo nuovo tool di GHD io lo devo assolutamente avere, perfetto per chi ha poco tempo come vi ho detto anche prima, e niente adesso stiamo andando alla sfilata di Biagiotti. Dopo aver trascorso qualche giorno a casa dedicandosi interamente alla sua adorata Camilla, Rosalinda Cannavo ha deciso di tornare in pubblico. Con i capelli sistemati e una nuova messa in piega, si è presentata pronta a partecipare a un prestigioso evento di sfilata di un rinomato marchio di abiti. Accompagnata dal compagno Andrea, la coppia ha attirato l'attenzione al suo arrivo. Dietro di loro, un porta fan suggerisce che Andrea potrebbe restare con Camilla, mentre Rosalinda si dedica all'evento. La sfilata promette di essere un'occasione imperdibile per la Cannavo, che ama immergersi nel mondo della moda. La sua presenza non è solo un segno di ritorno in grande stile, ma anche un momento di celebrazione della bellezza e della creatività. Rosalinda, con il suo charme e la sua eleganza, è pronta a brillare sul palco e a mostrare al pubblico il suo stile unico, confermando ancora una volta il suo status di icona nel panorama della moda.